Due reti incassate nella prima parte della partita condannano il Teramo ad uno stop interno rovinoso che conferma le difficoltà della squadra che quando deve provare a imbastire il gioco spesso lo subisce senza quasi rendersene conto. Primo tempo da incubo per il diavolo messo sotto dagli ospiti tatticamente e fisicamente. Squadra compatta, la Virtus Verona, corta e capace di raddoppiare sistematicamente sul portatore di palla. L'ultimo posto in classifica è relativo nel senso che nelle ultime quattro sono arrivati otto punti senza perdere, un filotto che ha ridato fiato alle speranze di salvezza diretta della squadra veneta. Viceversa Teramo imbambolato e sorpreso da tanta vehemenza ma anche incapace di reagire agli schiaffi presi. Nella ripresa Maurizio cambia tanto e cambia qualcosa anche nella convinzione ma non è aria. Gli ospiti controllano bene la gara e sfiorano anche il terzo gol. Il rigore trasformato nel finale da Infantino non cambia la sostanza. Con questo tonfo la salvezza diretta per il diavolo torna ad essere incerta e all'orizzonte ci sono due scontri diretti in Lombardia contro Giana e Renate. Come possiamo essere così sciocchi, ma a me per primo, quindi essere così sciocchi da non sfruttare queste due vittorie fuori casa e aver fatto due sconfitte poi in casa. Sicuramente, sicuramente ecco, questo è uno che cerca di... Io come tecnico cerco di farmi le domande perché il primo responsabile come sempre sono io, quindi cerco di farmi le domande e di capire il perché di questi debacle casalinghi dove manca veramente quella transagonistica che ci dovrebbe permettere di fare un po' di qualche risultato, anche con le unghie, come è stato domenica a Bergamo. E veniamo al film della partita. In porta c'è il ritorno di Lewandowski, un abbraccio a Gomis che tra poche ore si opererà. Purtroppo il numero 22 passerà un pomeriggio difficile come del resto i suoi compagni. In avanti Maurizzi conferma le indicazioni della vigilia tornando al 3-5-2 ma il tandem d'attacco è diverso. Accanto ad Infantino c'è Zecca in luogo di Sparacello, ospiti con il 4-3-1-2. Pronti via e si intuisce che sarà un pomeriggio difficile. Il Teramo va sotto al primo affondo, dodicesimo. Casarotto anticipa tutta la difesa bianco-rossa inserendosi alla perfezione su un traversone basso dalla destra di Onescu. Arriva la reazione del Teramo, ma che? Ventesimo raddoppio della Virtus Verona. Manfrin direttamente sul calcio di punizione da distanza siderale beffa Lewandowski che si tuffa in ritardo ma è anche piazzato male. Un 1-2 omicidiale che scompiglia i piani del Teramo, che sbaglia tanti passaggi, va in tilt e inizia a mettere dentro palloni senza costrutto con la difesa veneta che non corre alcun rischio. Nessuna parata per l'estremo Giacomel. Nel finale di tempo la Virtus potrebbe colpire ancora con una buona occasione sprecata da Danti che colpisce male. Con le immagini passiamo ai secondi 45. Avvio d'orgoglio del Teramo che prova a riaprirla senza fortuna. Qui ci prova Proietti e poi Zecca che conclude a lato un buon scambio con Infantino. La Virtus però non sta a guardare. Ribaltamento di fronte e Verona pericoloso con Gribac che tira a botta sicura. Caidi salva in calcio d'angolo. Il tempo scappa via il Teramo non riesce ad imbastire azioni degne di nota. Al 28esimo comunque un'azione che avrebbe potuto riaprire il match. Punizione di ventola, gran botta che Giacomel non trattiene Infantino in sacca ma si alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Così a fine gara il bomber biancorosso. L'ho visto regolarissimo. Non so l'albitro dove l'ha visto questo fuorigioco, anzi il guardalino dove l'ha visto. Poi non lo so se avrà visto un fuorigioco. Forse un centimetro. Forse è stato talmente bravo a vederlo. Se l'ha visto gli faccio i complimenti. Due minuti dopo gli ospiti si divorano il terzo gol con Ferrara. Al tramonto del match l'arbitro Giordano Di Novara vede un tocco di mano in area Veneta e assegna il penalty. Dal dischetto Infantino non sbaglia segnando il suo ottavo centro stagionale. Tuttavia è troppo tardi. Finisce 2-1 per la Virtus Verona. In basso la classifica è corta da paura. Io ero preoccupato anche prima di questa partita ma preoccupato nel senso che comunque consapevole di quello che siamo e lo continuo a ripetere sempre. Io sono consapevole di quello che siamo e niente. Quindi dobbiamo soffrire fino alla fine. Eramo sicuramente che ha disputato una brutta partita. Sì 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 una brutta partita perché anche anche perché se prendi due goli nei primi venti minuti non voglio dire tutto contro però la gente non ci aiuta nemmeno perché è una squadra che bisogna anche aiutarla perché alla fine questi siamo. Cioè non è che se ci criticano ci prendono a parole noi ci diventiamo il Barcellona. Quindi vorresti un aiuto anche da parte? Sì penso un aiuto a sostenerci perché la salvezza non è solo nostra o solo loro. Cioè è tutti insieme e dobbiamo essere tutti uniti per la salvezza.